Oggi è la giornata nazionale per le vittime del lavoro. Sugli infortuni mortali e sulle malattie professionali pesa anche l'effetto Covid. Angelica Fiore. La pandemia ha avuto effetti drammatici anche sul mondo del lavoro. Il lockdown, con il blocco della gran parte delle attività, ha fatto diminuire gli infortuni, ma sono aumentati i morti. Io definisco quello del Covid un vero paradosso. Con il lockdown gli italiani hanno lavorato di meno e questo ha fatto diminuire il numero complessivo delle denunce di infortunio. Però abbiamo anche registrato un elevato numero di morti, superiore a quello del 2019, e purtroppo il Covid ha fatto la differenza, soprattutto nel comparto sanità. Le infezioni da Covid denunciate come infortunio sul lavoro sono state più di 52 mila fino ad agosto. I morti 303. Il prezzo più alto lo hanno pagato i lavoratori della sanità, medici, infermieri, farmacisti. Anmil porta avanti con grande determinazione due battaglie. Intanto l'estensione delle tutele INAIL a tutte le categorie di lavoratori e a tutti i familiari della vittima, quindi i genitori, i fratelli e soprattutto i conviventi che sono al momento esclusi. La seconda grande battaglia è il riconoscimento dei diritti delle vittime all'interno della Costituzione affinché abbiano nel processo un vero e proprio ruolo processuale. Perché molto spesso si finisce in tribunale. Assolutamente sì. Come sempre al centro del processo ci sono i diritti dell'imputato e non quelli della vittima. La sicurezza dei lavoratori è il metro di... 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 La sicurezza delle delle avere diverse persone... Grazie.